L.A. Regina è arrivata a Royal Ascot dopo aver saltato i primi quattro giorni del famoso raduno del Berkshire. Sua maestà, 95 anni, era raggiante e appariva splendente in verde per la giornata alle corse mentre sfidava il tempo grigio. I fan reali saranno senza dubbio felici di vedere il monarca all'evento di cinque giorni. La regina di solito è un abitué del Royal Ascot, ma quest'anno non si è presentata da quando è iniziato martedì. È stata anche costretta a saltare l'incontro dello scorso anno poiché si è tenuto a porte chiuse a causa della pandemia di coronavirus. La monarca sorrise e la salutò mentre arrivava al parade ring in auto, invece che con la tradizionale processione in carrozza. E la grande folla è scoppiata in applausi e applausi quando hanno avuto il primo assaggio di sua maestà mentre suonava l'inno nazionale. I cavalli del monarca Rich Fortemoon, Tactical, Light Refrain e Kings Lynn sono tutti pronti per correre durante il pomeriggio. Un annuncio precedente sabato ha detto che il capo dello Stato sarebbe apparso alle 14. L'annuncio diceva. Signore e signori, siamo lieti di annunciare che sua maestà la regina arriverà al parade ring alle 14. Altri reali, tra cui Zara e Mike Tyndall, la principessa Anna e la contessa di Wessex, sono già apparsi al Royal Ascot di quest'anno. Parlando martedì, il racing manager della regina ha detto che sperava di partecipare più tardi durante la settimana. Ha detto al programma Today di BBC Radio 4. Ovviamente la regina vorrebbe partecipare. Come sai è fanatica delle corse, delle corse e dell'allevamento di cavalli, ed è andata da Scott per tutta la sua vita adulta. Punto. Quindi, è un peccato perdere un evento. Il piano al momento è vedere come andrà verso l'ultima parte della settimana e se la regina sarà in grado di venire perché ha dei corridori, allora, incrociamo le dita, accadrà. Camilla si è anche aperta all'interesse per tutta la vita del monarca per i puro sangue in un'intervista con i TV racing all'inizio di questa settimana. La duchessa di Cornovaglia ha detto, beh, penso che questa sia la sua passione nella vita e che la ami, e puoi dire quanto la ami. Potrebbe dirti ogni cavallo che ha allevato e posseduto fin dall'inizio, non dimentica nulla. Non riesco a ricordare cosa ho allevato un anno fa, ma lei è enciclopedica riguardo alle sue conoscenze. Grazie a tutti.